Dottor Cipriani, si parla dell'Alzheimer, una malattia che colpisce soprattutto gli anziani. Come fare prevenzione per evitare questa malattia che non solo cancella i ricordi dell'ammalato, ma cancella tutta una serie di sentimenti anche di chi si trova ad occuparsi dell'ammalato stesso? Sì, questa è una malattia particolare che ha due vittime, una è il malato, l'altra sicuramente è la famiglia e quindi noi dobbiamo operare e dobbiamo lavorare sia per cercare di dare assistenza al malato, ma soprattutto bisogna dare assistenza anche alla famiglia che ha una quantità enorme di problemi. Fino a ieri si parlava, o fino a oggi si parlava di prevenzione in senso generico, oggi ci sono le evidenze scientifiche che una cosa del genere è possibile. Significa che sono stati fatti dei lavori scientifici e che questi lavori hanno portato a determinare un concetto. Si può fare prevenzione e addirittura ci sono dei documenti nazionali come il piano delle demenze che programma e raccomanda alle regioni, alle aziende sanitarie di fare prevenzione. Per adesso affoggia, la prevenzione la sta facendo l'Associazione Alzheimer Italia. Lei è il presidente proprio dell'Associazione Alzheimer Italia. Qual è l'incidenza dei malati per quanto riguarda la capitanata? Allora, qui stiamo parlando di stime, io continuo a ripetere queste cose dal 2000, da quando siamo nati. Parliamo di stime e non di dati, nel senso che se vogliamo i dati, se volessimo i dati, dovremmo pagare tante persone per entrare nelle case delle persone e per chiedere se ci sta il malato. Questo costa moltissimo. Allora si fanno delle stime su dei lavori che sono stati fatti a livello nazionale e a livello internazionale, si sono ricavate delle stime e si pensa più o meno che dopo i 65 anni ci sono delle percentuali di incidenza che variano a seconda delle varie ipotesi di lavoro, comunque intorno al 4-5% degli utri a 65 anni, per salire poi dopo agli utri a 80 anni verso il 15-20% e ancora più su. Ciò significa che su una popolazione come quella di Foggia noi abbiamo fatto dei conti generici che non hanno nessuna validità scientifica, però sono stime collegate alle stime nazionali. noi dovremmo avere 5.000 malati di Alzheimer, quindi 5.000 famiglie di malati di Alzheimer alle quali famiglie deve essere data risposta nell'assistenza al malato. Dottor Giuliani, lei è un geriatra. Come gestire l'ammalato di Alzheimer? È una domanda complessa quello che lei mi ha fatto. Tenga presente che oltre a cercare di agire intervenendo con una diagnosi più precoce possibile per utilizzare al meglio i pochi medicinali che abbiamo a disposizione, ciò che conti è aiutare la famiglia in questo percorso con un'assistenza sul territorio che abbia tutti i connotati della completezza, ovvero sia cercare di aiutare a mantenere il soggetto nel proprio domicilio grazie all'assistenza domiciliare e utilizzando i centri di urni per favorire sempre il mantenimento a domicilio e poi avere delle strutture sul territorio che possono aiutare anche a livello residenziale. Purtroppo mi spiace doverlo dire che da noi abbiamo delle carenze strutturali notevolissime e non riusciamo ad ottenere un aumento dei posti residenziali nonostante che l'incidenza della malattia sia molto elevata. E' stato detto poco fa che il 5% dei soggetti oltre i 65 anni sono affetti da demenza e che vuol dire che in Italia ce ne sono 600.000. Già solo nella nostra città i numeri sono elevatissimi. Su una popolazione di 160.000 possiamo tenere presente che abbiamo 1.500 soggetti con patologie dementigene solo nella nostra città. Come può capire le necessità organizzative e assistenziali devono essere ben radicate nel territorio e invece sono particolarmente carenti. Entriamo nello specifico. Cos'è l'Alzheimer? Quali sono le cause se si conoscono e quali le cure? Allora l'Alzheimer fa parte delle patologie dementigene che sono variegate, ci sono numerose forme. Quella di Alzheimer è la più frequente, la più comune, è intorno al 70% dei casi di demenza ed è dovuto a una degenerazione della cellula nervosa. C'è una proteina che impazzisce la beta-amiloide che precipita e fa morire il neurone. La morte della cellula ovviamente comporta a catena una serie di danni a livello cerebrale sul comportamento e sulla capacità fino a condurre alla perdita dell'autonomia. Farmacologicamente abbiamo Proco, quindi bisogna agire il più possibile sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione. Come fare una diagnosi precoce? Purtroppo c'è un errore di base, c'è la cognizione comune che il vecchio possa dimenticare, cosa assolutamente falsa. Noi abbiamo tanti novantenni perfettamente capaci, abbiamo avuto Presidenti della Repubblica che hanno lasciato 90 anni. Se avesse avuto problemi di decadimento ci saremmo preoccupati ovviamente. Quindi perché non preoccuparci quando un vecchio di 70-80 anni comincia ad avere delle difficoltà? Purtroppo sembra quasi normalità per cui non viene approfondito il percorso diagnostico che se invece viene fatto correttamente nelle strutture idonee con gli specialisti idonei può essere fatto precocemente e quindi l'intervento terapeutico può essere precoce e con risultati chiaramente di migliorare la qualità della vita nel percorso di questa patologia. Grazie.